in zona 2 tra l'altro tracciato da lui è giù piano 5 e andate via dritto sarà in quarta giù di lì porta blu come mai così? c'è ancora la marcia alta o perché? ma perché c'è ancora la marcia alta? o perché sono troppo vicine alle porte? anche quella uscita mi sa che è un po' stretta non è giù? Grazie. Grazie. La cara pure un po' avanti. Eh, ho visto perchè. Eh, forse così. Aspetta che... Quelli alti. Per quel sasso lì che sei mosso, va. Questo qua? Qualche largo che queste o... Così? Eh... La zona è impossibile. E' così di balorda? Eh... Poi devi girare giù. Eh, no. Io faccio fatica. Magari te la cagate. Eh... Strette su strette. Però... Sì. 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 Anche la devi stare attento quando giri giù la prima. Di dosare bene i freddi, darla piano. La prima qui in discesa? In discesa. Poi anche quella la. Ah. Perché è in costa, capito? Quindi... Per me... Eh... Com'è che l'è allora? Guardate voi qua. Com'è? Com'è? Luigi... L'ho visto un po' in crisi. Non so se... Eh... Giallo e rosso. Sembra forse più difficile di quello che... Sì. Sì. Tornado. Che ragno! È una roba. È una roba exagerata. Mi ha provato a Luigi in quinta. Ma aperto se spaventato e si è messo solo pianeta. Oh, coglia! Sì. Grazie a tutti. sembra semplice ma 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 mi ha fatto quella da sole ma poi si è scappati all'ombra adesso mi ha messo giù una tutte curvette niente di che però stupida non arriva a toni non arriva a toni infatti ho visto su non arriva a toni non arriva a toni non arriva a toni non arriva a toni